Il 6 e 7 maggio è importante che si vada a votare, perché è un diritto scegliere i propri rappresentanti. Chiedo a voi tutti di sostenere questa coalizione, la coalizione dei moderati, che è composta da sette liste, tra le quali la lista del buon governo, dove sono candidato. Vi chiedo pertanto di sostenere con forza questa coalizione, di sostenere la lista del buon governo, di dare consensi alla mia persona, ma soprattutto è importante dare un voto massiccio e convinto al candidato a sindaco a Mimmo Lione.